Il primo caso di peste suina africana in Emilia Romagna è stato confermato nelle scorse ore dalle autorità sanitarie locali dopo il ritrovamento di un cinghiale infetto in Valla Boreca, non lontano dal confine con l'oltrepò Montano e la Lombardia. Ne riferisce il quotidiano Libertà spiegando che sono stati alcuni escursionisti martedì a trovare la carcassa nei pressi del borgo di Pizzonero nel comune di Ottone lungo il cosiddetto sentiero del Postino. Come prevede lo stato di allerta ormai presente da due anni, il gruppo ha subito segnalato l'ungulato morto alle autorità competenti, i veterinari hanno prelevato l'animale ed effettuato tutti i test che hanno confermato la presenza del virus. La Val Boreca in provincia di Piacenza è incuneata fra quelle di Pavia a nord, quella di Genova a sud e quella di Alessandria ad ovest. In tutte queste aree, come noto, la presenza del virus della PSA è ormai da tempo conclamata. Accanto all'attivazione delle misure di contenimento del virus in Emilia, la notizia ha riacceso la polemica in Lombardia con il gruppo del Partito Democratico in regione che è tornato ad evidenziare la riferita mancanza di iniziativa della Giunta. Nelle vallate del Ticino, hanno spiegato i consiglieri democratici, in tutto il territorio non sono ancora stati vietati i suini al pascolo e questo è un fatto gravissimo. Gli allevatori continuano poi a non vedere un euro di contributi di abbattimento. Secondo il PD restano inoltre ancora da definire vari aspetti importanti per gli allevamenti, specie pavesi, la disponibilità di macelli a ritirare capi a un prezzo corretto, la gestione dei liquami e l'urgenza di indennizi per danni diretti e indiretti alle aziende, elencano i consiglieri. Occorre proteggere la filiera lombarda che rappresenta il 50% di quella nazionale, hanno concluso i consiglieri del Partito Democratico.